Gioca con Coda che si gira, può calciare Coda. Coda! Colomi dice no, poi Assenzio, poi Letizia, rimpallo, palo e gol! Ed è proprio così, il gol dell'ex, Gaetano Letizia, segna e porta... Letizia, trova con il destro Letizia! E trova un gol pazzesco! Il gol del vantaggio del Carpi! A costa in questo finale, il Carpi dalla distanza, Letizia! Letizia! Il Carpi in vantaggio, incredibile! Letizia 9 contro... Caracciolo si prosegue, il pallone ce l'hanno ancora quelli del Benevento, arriva velocissimo come al solito Letizia, si sovrappone di Uriciccia, centralmente c'è Iemmello, Letizia la mette da solo sul destro! Super gol di Gaetano Letizia, il primo in campionato al venticinquesimo del primo tempo, Benevento 1, Verona 0. Che gol di Letizia! Grandissimo gol, ha avuto un aeroporto, uno spazio incredibile da... ...